armatori, confitarma, dottor Lucasisto, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della difesa. Avverto che con il consenso dell'audito la pubblicità dei lavori odierni sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Do quindi il benvenuto al direttore generale di confitarma, dottor Lucasisto, accompagnato dalla dottoressa Esther Marchetti. Dopo l'intervento del dottor Sisto darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni cui il dottor Sisto potrà replicare. A tal proposito chiedo dunque ai colleghi di far pervenire fin da ora al Banco della Presidenza la propria iscrizione a parlare. Do adesso la parola al dottor Sisto per il suo intervento. Prego direttore. Buongiorno Presidente, grazie di cuore. Buongiorno onorevoli membri della quarta Commissione difesa della Camera dei Deputati. Porto innanzitutto i saluti del Presidente Mario Mattioli, Presidente della Confederazione Italiana Armatori che da 122 anni rappresenta gli interessi dell'industria marittima nazionale ma anche Presidente della Federazione del Mare che raggruppa tutte le industrie del cluster marittimo portuale nazionale, quindi armamento, cantieristica, portualità di porto, pesca e servizi annessi. Bene, entro nel tema signor Presidente e è una grande opportunità questa che ci viene data perché vedete l'Italia si protende al centro del Mediterraneo a circa 8.000 km di coste, come voi sapete, noi in Confitarma sosteniamo che purtroppo ha anche 8.000 km di costi inutili del navigare, su cui dovremo lavorare ma non probabilmente in questa Commissione. Ed è un Paese che è legato sul mare, come dice il Ministro Musumeci, nel, per e sul mare, per motivi differenti, economici, sociali e di sicurezza. La dimensione marittima rappresenta quindi un patrimonio del Paese. Quello che noi sosteniamo, Presidente, essere il patrimonio liquido del nostro Paese, la marittimità del nostro Paese. L'economia nazionale dipende dal mare, anche se il nostro Paese è spesso affetto da un male che noi chiamiamo con un termine inglese sea blindness, cecità del mare, cioè non ci rendiamo conto della filiera marittima che è invisibile per più delle volte, ma è quella più importante. Ricordo sempre che il 90% delle merci prodotte del mondo e delle materie prime del mondo viaggiano via mare in una straordinaria quotidiana silenziosità. Noi però, accecati, abbagliati dall'ultimo miglio gommato, immaginiamo che tutto poi avviene, viene trasportato via gomma e non ci, chiudendo gli occhi, dovremmo tornare indietro e capire quanto è importante invece la dimensione marittima, soprattutto per il nostro Paese. Ecco, questo patrimonio liquido va tutelato e qui entra il tema della sicurezza e degli investimenti che occorrono per tutelare questo patrimonio liquido. Bene, per tutelarlo, a nostro avviso, signor Presidente, occorre un'azione coordinata, condivisa e inquadrata in una visione d'insieme tra più soggetti coinvolti, che sono pubblici e privati, un approccio sistematico nazionale che accresca il livello di consapevolezza necessaria per affrontare le sfide che caratterizzano il cosiddetto dominio marittimo. Questo dominio marittimo si unisce alla valorizzazione di un patrimonio tecnologico avanzato all'avanguardia di cui l'Italia è portavoce industriale primario. Quindi la sicurezza marittima racchiude il complesso di attività di protezione del sistema produttivo e di trasporto marittimo, lo shipping, il nostro core business, le linee di comunicazione, gli oleodotti, i gasdotti sottomarini, i porti, gli interporti, centri nodali di smestamento, le navi e le piattaforme petrolifere. Abbiamo presentato, signor Presidente, all'Accademia di Livorno la settimana scorsa il primo quaderno sul mondo subacqueo. La Fondazione Leonardo con la Marina Militaria ha presentato questo quaderno importantissimo. Il subacqueo, la dimensione subacquea sarà il futuro dell'umanità. Da lì verrà il cibo dei nostri nipoti. Da lì passano già oggi il 97% delle informazioni che noi tocchiamo con il nostro cellulare. Sotto passa l'energia. Questa esigenza quindi si inquadra in uno scenario di attività in cui purtroppo ci sono anche testimonianze illecite. Io mi riferisco in primis alla pirateria marittima e alle rapine a mano armata in mare, al traffico di esseri umani, di armi, di stupefacenti e il terrorismo. E a queste minacce fisiche tradizionali si stanno affiaccando oggi delle minacce più subdole, che sono quelle che sono legate agli andamenti geopolitici dei grandi imperi, ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale marino e agli attacchi ibridi, subdoli informatici, la cyber security. Un complesso di attività che riguarda la sicurezza del mare, in cui io adesso cerco di focalizzare alcuni temi geografici. Innanzitutto, con grande interesse, Confitarma osserva e tutela il supporto della presenza della marina militare italiana nei scenari operativi che ci riguardano da vicino, in primis il Mediterraneo, il nostro mare. Oddio, non solo più il nostro. L'operazione Mediterraneo Sicuro, signor Presidente, concorre alla sicurezza marittima e tutela degli interessi nazionali, in un'area geografica che si estende dalle Balearie al Mediterraneo, che noi conosciamo più vicino alle nostre coste, attraverso attività di presenza, sorveglianza e deterrenza. Tra i diversi compiti assegnati alla marina, sicuramente c'è quello del controllo, i cosiddetti shock point strategici, che sono lo stretto di Sicilia e il canale di Otranto, e tutte le linee di comunicazione marittime che rassicurano la flotta mercantile che vi opera. Vedete, i flussi marittimi sono, mare libero di Grozio, da sempre linee, infrastrutture, mobili, viaggianti, non ubicate, che devono essere libere, aperte a tutte, ma al tempo stesso proprio perché aperte a tutte sono più pericolose e vanno tutelate. E la marina militare ha questo ruolo importantissimo di tutela del libero traffico commerciale. Siamo altresì consapevoli che la competizione per le risorse energetiche e sottomarine è il conseguente fenomeno della cosiddetta territorializzazione dei mari, cioè gli stati che appartengono sempre più prendono possesso del mare libero, limitando lo spazio di navigazione e di sfruttamento del sottosuolo libero. Si trova soprattutto nel nostro quarante orientale mediterraneo, dove noi abbiamo interessi economici rilevanti e quindi abbiamo degli interessi convergenti, a volte divergenti, anche con i paesi liberaschi, sia europei che dell'area MENA. La marina militare quindi assicura questo ruolo importantissimo di condurre operazioni a protezione delle nostre unità posacavi, degli impianti utilizzati per la ricerca, la coltivazione e il trasporto degli idrocarburi, contribuendo al mantenimento alla stabilità dell'area attraverso la collaborazione tra tutte le parti in causa. Apro e chiudo subito una parentesi, non entro oggi nel tema della problematica dei soccorsi in mare, però una cosa vorrei dirla, signor Presidente. Il Mediterraneo è il nostro mare, è il mare più vicino, è il mare in cui la nostra flotta è più esposta, da sempre. Ricordo l'anno 2014, quando la Marina Mercantilitaliana fu chiamata a soccorsi continui in quell'area di mare, molto delicati, con atti di eroismo da parte dei nostri equipaggi, che purtroppo sono stati silenziati dai media. Io ricordo il Presidente Mattioli con la sua flotta fu in quell'anno chiamato 60 volte al soccorso in mare, perché la sua flotta è quella che lavora più vicino alle piattaforme dell'Eni in Libia, quindi dal punto di vista della vicinanza fu quello più chiamato. E nel complesso in quell'anno ci furono più di 900 chiamate delle navi mercantili italiane. Ecco, questo problema adesso si sta riproponendo, con dimensioni forse ancora più rilevanti, e il naviglio mercantile è nuovamente chiamato in queste operazioni. Lo segnalo perché va segnalato, ma non entro adesso nel tema del soccorso in mare. Passo a un'altra area geografica, apparentemente più lontana, che è quella del Golfo di Guinea, e però segnalo subito alla Commissione un concetto per noi fondamentale. Oggi il mondo non si misura più per la sua distanza geografica. Il mondo si misura per la sua distanza economica. Un luogo è più vicino a un altro se è più vicino economicamente, non geograficamente. La dimostrazione è che la città di Milano viene servita più da Rotterdam che da Genova. Evidentemente Rotterdam è più vicino a Milano di quanto lo sia Genova, purtroppo. Purtroppo, non è questo. Ed è per questo che vorrei spendere qualche minuto su questa area geografica così importante, il Golfo di Guinea. È un'area strategica per l'Italia, signor Presidente, onorevoli, per i numerosi scambi commerciali con i paesi della Regione e soprattutto per l'approvvigionamento di risorse energetiche. Sebbene la rafforzata presenza navale internazionale e le potenziate capacità delle nostre forze navali abbiano determinato un calo delle attività piratesche nell'area, voi sapete che c'è stato un incremento degli attacchi dei pirati nel West Africa rispetto all'Est Africa degli anni precedenti, siamo passati per fortuna nel 2021 da 35 incidenti a 19 nel 2022, quindi c'è un calo. Però l'area rimane molto pericolosa. Ci sono stati attacchi pesantissimi, addirittura omicidi e ferimenti di marittimi delle navi del mondo. Ecco, quest'area è talmente pericolosa che il confidarm ha chiesto ufficialmente un dispiegamento a partire dal 2020 di unità della nostra marina militare nel Golfo di Guinea a protezione di questi interessi nazionali. È l'operazione Gabinia, che rappresenta senza dubbio a nostro avviso un ulteriore importante risultato della consolidata sinergia tra le componenti pubbliche e private che operano in mare. Tali operazioni sono apprezzate dalle nostre imprese associate. Vedete, onorevoli, i nostri comandanti che sono lontani, questa volta fisicamente e geograficamente, nella comunità nave italiana che è territorio italiano, quando vedono una nave della marina militare in un'area pericolosa, si sentono protetti. È una protezione psicologica ancora prima che una protezione fisica. E poi, quando succede qualcosa, avere la possibilità di parlare con la nostra lingua, con un comandante della marina militare italiana che ha mezzo a disposizione per sopire eventuali attacchi, per debellare attacchi più violenti, per proteggere, per dare informazioni. Ecco, quello è un tema molto importante che rassicura i nostri marittimi. Bene, c'è stato un costante contatto tra i comandi dell'unità militare italiana e quelle delle marina mercantile. E le esercitazioni congiunte che il Confitarma ha promosso con la marina militare e la Guardia Costiera, nonché l'attività di monitoraggio dell'area svolta dalla centrale operativa IMRCC Roma, via dell'arte, che allerta prontamente i mercantili che vi operano in caso di imbarcazione ferme in posizione sospette, ha aiutato molto la sicurezza della navigazione. Signor Presidente, è tuttavia però evidente che solo l'effettiva presenza di assetti militari nazionali offre un adeguato e concreto grado di sicurezza a chi opera in mare, lontano dai suoi effetti familiari. Confitarma quindi sottolinea l'importanza che la presenza di unità della nostra marina militare nell'area possa essere riconfermata per il futuro e possibilmente per l'intera cadenza annuale e non solo per un periodo dell'anno. A nostro avviso un investimento pubblico necessario a mettere in sicurezza un'area che dà energia al nostro Paese. A livello centrale spieghiamo anche che si possa realizzare un accordo con i Paesi e le marine circostanti l'area, sia occidentali quindi che locali, che possa garantire protezione ai mercanti italiani anche in assenza di unità. Sarebbero accordi importantissimi. Veda, signor Presidente, in quell'area di mare noi assistiamo a un cortocircuito giuridico. Voi sapete che la legge 130 del 2011 consente la protezione delle nostre navi dagli attacchi di pirateria marittima nell'area a rischio di pirateria. Lo consente però con un modello rigido, cioè sono istituti di vigilanza riconosciuti dal nostro Ministero dell'Interno, che possono imbarcarsi e proteggere i nostri mercantili. In quell'area di mare invece le polizie locali non consentono alle navi che si affacciano a quei porti di essere difese da personale che non sia il loro personale di polizia locale. Noi non possiamo imbarcare quel personale e quindi le navi non sono protette. A quel punto le navi sono scoperte. Possono soltanto avvalersi di un patrol vessel, di una nave appoggio che è costosissima, che possa proteggerli dal mare oppure dell'intervento pubblico. Signor Presidente, questa è una responsabilità importante del nostro Paese. Assicurare a questi nostri concittadini che ci portano energia, ci portano i nostri vestiti, il nostro cibo ogni giorno, di navigare e di lavorare in sicurezza con la bandiera italiana a poppa, la nostra bandiera. Passo brevemente all'Oceano Indiano. L'Oceano Indiano è stato per anni un mare particolarmente insicuro e particolarmente pericoloso. Noi abbiamo assistito ai primi attacchi della crudescenza per le trie nel 2005-2006 e da allora ci sono stati dei picchi fino al 2012, poi per fortuna il fenomeno è supito, non debellato, ma supito. Ecco, nonostante ci sia un livello di minaccia connessa fino alla pirateria ormai quasi annullato. A 1 gennaio 23 le principali organizzazioni del trasporto marittimo internazionale hanno concordato la rimozione della cosiddetta Indian Ocean High Risk Area, cioè l'area a rischio pirateria, si ritiene ancora fondamentale il monitoraggio e la presenza di assetti militari nell'area. In questo quadro l'operazione NAFOR Atlanta resta il caposaldo operativo in mare. A nostro avviso è importante continuare ad assicurare la sorveglianza e il riconoscimento di attività sospette, riconducibili a casi di pirateria, a protezione delle navi in prossimità delle coste somale e scoraggiare un fenomeno che potrebbe comunque riproporsi in futuro. Il fenomeno, signor Presidente, è supito, ma non debellato del tutto. Occorre un monitoraggio. Noi, altresì, speriamo che l'operazione Agenor, condotta dall'ambito iniziativa emasolo del Golfo Persico, setto di Ormuz, possa proseguire una presenza finalizzata ad assicurare la libertà di navigazione e la libera circolazione del commercio globale, rassicurando l'industria marittima nazionale che opera in questa delicata regione. Signor Presidente, con il suo premesso vorrei adesso accennare soltanto brevemente ad alcuni temi, riservandomi poi di integrare la relazione che le manderò e manderò agli orlevoli membri di questa Commissione per iscritto. Noi abbiamo avuto un momento di grande finanziamento PNRR e fondo complementare legato alla digitalizzazione. Ora io mi chiedo, visto che stiamo andando incontro a un periodo di grande difficoltà per gli attacchi subdoli cibernetici, non sarebbe il caso di proporre, di spostare parte di questi finanziamenti alla cosiddetta digitalizzazione fisica delle persone fisiche, alla digitalizzazione e alla protezione dei dati e dei sistemi delle società di navigazione italiane che stanno andando incontro a minacce sempre più rilevanti? Non è più utile fornire a un sistema complesso che un'azienda una protezione informatica piuttosto che fornire un PC ai singoli operatori? Dal punto di vista del sistema della sicurezza nazionale non sarebbe opportuno investire in tal senso aiutare la progressione della consapevolezza della sicurezza cibernetica? Vedete, la navigazione ormai è completamente elettronica, non si naviga più col sestante, non si naviga più all'esterno, si è perso quello che gli inglesi definiscono il common non si sensi, il senso comune del mare, olfattivo, si naviga al chiuso, si naviga con una carta elettronica di fronte ai nostri occhi. È evidente un potenziale pericolo da terra e da bordo. Io, signor Presidente, veramente vorrei sottolineare questa esigenza. Non sarebbe neanche necessario uno stanziamento rilevante, ma sarebbe importante dare un segnale di consapevolezza di progressione dei sistemi di sicurezza aziendale contro gli attacchi informatici. Torno adesso al tema invece più fisico. Noi abbiamo coniato uno slogan che avvicina la sicurezza allo shipping. Un mare insicuro è un mare costoso. Un mare sicuro è un mare meno costoso. E quando un mare è insicuro ed è costoso, non è costoso per gli armatori, perché gli armatori di mestiere navigano. È costoso per l'economia di terra, è costoso per noi cittadini, per noi che facciamo la spesa nei nostri supermercati, per noi che facciamo benzina tutti i giorni sotto casa. È lì che si abbatte poi il costo del trasporto di un mare insicuro. Ed è per questo che la sicurezza si sposa con la conduzione sana di un'industria di navigazione. E siccome l'Italia dipende dal mare, a questo punto io con un nuovo slogan, l'Italia dipende da un mare sicuro. Quando noi, era 2011, andammo a trovare l'allora ministro della difesa la russa e l'allora purtroppo scomparso ministro degli esteri Franco Frattini, per convincere il nostro Parlamento e il nostro Governo ad agire in tema di sicurezza marittima contro la pietria marittima, noi dicemmo una cosa secondo me fondamentale. Vedete, è un atto di responsabilità assicurare la vita e la sicurezza fisica dei nostri equipaggi, ma ancor più un atto di responsabilità assicurare che il Mediterraneo non venga marginalizzato. Perché se non affrontiamo il problema della pietria dell'Oceano Undiano, i grandi vettori girano l'Africa, fanno il periplo e non entrano più in Mediterraneo. Si trovano la migliore portualità del mondo occidentale, Hamburgo, Anversa, Rotterdam. E a quel punto la nostra economia viene marginalizzata e il costo del trasporto aumenta, i viaggi si allungano e i nostri porti, la nostra economia, la nostra logistica mediterranea viene marginalizzata. Fu un atto importantissimo la legge 130 del 2011, Presidente, perché è stato riconosciuto per la prima volta che un bene strategico, privato, la nave commerciale e un armatore italiano battente a bandiera italiana possa essere protetta con personale pubblico armato, i nuclei militari di protezione e poi il modello duale con gli studi di vigilanza oggi. Ebbene, questo asset strategico, che è una nave, una singola nave, una flotta italiana, è un asset strategico non soltanto per l'imprenditore e per i suoi dipendenti, ma è un asset strategico per il Paese. Ed è per questo che il tema della sicurezza in mare si sposa con la sicurezza economica del Paese. Ed è con questa riflessione finale che io ringrazio di cuore, onorevole Presidente, onorevoli membri di questa Commissione, per aver dato la possibilità a Confitarma di esprimere questi concetti e auspicare che la sicurezza in mare possa sempre essere un patrimonio del nostro Paese. Grazie, grazie Direttore Sisto per questa importante occasione di confronto. Sappiamo che Confitarma è il più importante punto di riferimento rispetto al mondo sicuramente degli armatori, ma anche per questa Commissione spero che da oggi sarà un importante punto di riferimento per i tanti spunti che adesso abbiamo già avuto modo di ascoltare, ma per i tanti spunti e anche approfondimenti che potranno essere utili a tutti noi per importanti iniziative legislative a tutela ovviamente della sicurezza e del mondo appunto della difesa di cui ci occupiamo. Chiedo adesso ai colleghi se intendano porre delle domande. Se nessuno chiede di intervenire io ringrazio ancora il... Sì, eccoci. Ringrazio il Direttore, è stato chiarissimo. Ovviamente è molto importante il pensare di questi collegamenti evidentemente tra la realtà militare e la realtà civile, che sono poi collegamenti fondamentali, cioè la realtà militare ha un senso proprio se è di protezione della realtà civile, dunque di per sé stessa ovviamente penso che non avrebbe alcun senso. Quindi è molto interessante, qualcosa ovviamente sapevamo, ma tante altre cose un'apertura mentale ce l'ha data e ci servirà. Quindi è importante, come ha detto il Presidente, questo collegamento con la realtà della confitarma. Quello che volevo chiedere è se dovesse esprimere un desiderio, che desiderio possiamo esprimere pochi, ma un desiderio importante e realizzabile che la confitarma desidererebbe che in qualche modo fosse almeno esaminato dalla nostra Commissione e dal Parlamento italiano quale sarebbe. Grazie onorevole, grazie davvero per la sua riflessione. La sua domanda è piuttosto difficile, mi metto un po' in imbarazzo perché mi chiedo una risposta soltanto. Però io provo un pochino a articolare la risposta e dico da una parte mi piacerebbe che fosse percepita la sicurezza nazionale in tutti i suoi spazi, cioè che si fosse in grado di andare oltre il territorio fisico. Perché l'Italia non è soltanto un paese fisico, continentale. L'Italia è un paese marittimo. Poi non di confitarmi, ma sosteniamo purtroppo che l'Italia è un paese amarittimo, perché si sente circondato dal mare, come se il mare fosse un nemico, e non sfrutta invece la sua capacità marittima, che è quella di essere proiettata nel mare. Allora io penso, se un desiderio, dal punto di vista della sicurezza, che è il tema oggi in discussione, che possa essere sempre assicurata a ciascuna nave italiana, a ciascun cittadino italiano, a ciascun marittimo italiano, a ciascun interesse nazionale flottante, la stessa sicurezza che può avere percepita e fisica in territorio italiano. Anche quando fosse geograficamente lontano questo interesse, ma rilevantissimo vicino dal punto di vista economico. Spero di aver dato una risposta. Bene. E allora, se nessun altro chiede di intervenire, io ringrazio i colleghi presenti, ringrazio ancora il Direttore Generale di Confitarma, Luca Sisto, e dichiaro conclusa l'audizione.